Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Matti agli insetti. Questo è il mio primo accoppiamento tra mantidi. E' anche il primo accoppiamento che faccio con i miei animali. Sono molto soddisfatto di questo. E ce l'ho provato in passato ma non ci riuscivo o magari non lo so. Quindi sono soddisfatto. Io spero davvero che il maschio sopravviva. Mi fido bene perché la femmina ultimamente e anche negli ultimi stadi l'ho iniziata a nutrire molto. Gli ho dato queste grosse locuste per cui credo proprio che il maschio riuscirà a sopravvivere. Se avrò i piccoli farò sicuramente un video all'allevamento. Ciao a tutti! Grazie! Grazie!